The Rock è stato per diversi anni l'attore olivodiano più pagato nel mondo, ma i film non sono l'unica fonte di reddito per lui. Infatti The Rock ha investito nell'abbigliamento sportivo con Under Armour, in bevande energetiche, in un brand di tequila, ma anche in un'app finanziaria sotto l'ombrello della società Seven Bucks Company, di cui è alla guida con l'ex moglie Dani Garcia. The Rock è tra gli influencer con più follower su Instagram. Pensate, conta oltre 250 milioni di seguaci. I popolari sono le sue dirette, in cui mostra come si tiene in forma e cosa mangia per mantenere la sua linea. Famosissimo è il suo pasto libero, il Rock Toast, che è diventato poi anche protagonista in discusso delle sue live. Un panino fatto con pan brioche, scirotto e altri ingredienti che cambiano di volta in volta. Noi oggi abbiamo provato a replicare la sua ricetta. Provateci anche voi, fateci sapere cosa ne pensate. Buon appetito!